Si ricordava che quest'oggi l'ecosostenibilità è un dovere civico. Sì, la sostenibilità non è più una scelta, ma di fatto è un dovere, nel senso che è la direzione obbligata verso cui procedere per creare un mondo sostenibile e per salvare il nostro pianeta. Bisogna farlo però con una visione, bisogna farlo con un'ispirazione, sapendo dove si vuole andare, avendo chiara la meta. Perciò è particolarmente importante promuovere eventi come Motomundi che creano l'occasione di riflessione, di battito, di approfondimento tra tutti i soggetti in campo, dalle aziende, alle amministrazioni pubbliche, alle associazioni, al mondo della scienza e anche della comunicazione e del giornalismo, perché individuare una strada e percorrerla insieme è l'unico modo per vincere questa sfida. Farlo a Capriglia ha un significato ancora maggiore perché Capriglia è un luogo per eccellenza bloccato all'energia, è un luogo che intorno all'energia ha costruito anche la sua identità culturale e di cittadinanza e può essere davvero insieme all'area mineraria che per esempio viene oggetto oggi di un importante progetto di riqualificazione, può essere veramente tracciare una lotta verso cui procedere per fare dell'ecosostenibilità un dovere civico e una cittadinanza sempre più diffusa.